ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi sono qui con il mio amico manuel come vi avevo promesso oggi abbiamo un drone lo facciamo volare per le colline qui circostanti così insomma spero di incuriosirvi spero di spingervi a venire qua a lucca a fare qualche giro in moto ciao a tutti a questo punto non resta che salutarci mi raccomando se vi è piaciuto questo video mi sempre mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e soprattutto se vi capita venite a lucca a passare qualche qualche buon weekend ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti